Siamo arrivati a Gesù Cristo, pace e bene. Bene, le letture che ascoltiamo in questa liturgia domenicale sono letture che mettono al centro una riflessione sulla ricchezza. La ricchezza può essere un bene ma può diventare un ostacolo, può essere un bene se i beni si usano e si condividono per il progresso, per la compartecipazione, per la condivisione con gli altri. Ma possono diventare un ostacolo se diventano solo qualcosa a cui ci aggrappiamo per salvaguardare noi stessi, per darci sicurezza che poi non ci possono dare perché... Ed è il problema che pone il Vangelo di oggi ed è anche il problema del libro della Sapienza. Cioè che cos'è la Sapienza? Salomone, ma il libro della Sapienza, dicono io non voglio ricchezza, oro, argente, tutte cose che parlano, voglio la Sapienza. Cioè la capacità di dare un senso profondo alla mia vita, scoprire nella relazione con Dio e con gli altri il senso della vita. Allora vediamo il Vangelo che cosa ci dice, ci racconta di un giovane, un giovane che va incontro a Gesù e gli chiede, ecco, mentre Gesù sta per mettersi in viaggio, va incontro gettandosi, gli corse incontro, quasi una specie di premura che aveva di risolvere un suo problema. E gli chiede, gettandosi in ginocchio, maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Il suo problema è che io sono ricco, sto bene, però che succederà davanti alla morte? Ci sarà un futuro? Che devo fare per avere la vita eterna? Siccome discutevano, c'erano troppe discussioni, già i rabbini, già quelli, si perdevano. Il giovane dice che come faccio a sapere che cosa devo fare per la vita, per avere la vita eterna? Cioè continuare dopo la morte, insomma, questo è il senso. E Gesù dice perché mi chiami buono? Uno solo è buono, è Dio. Cioè il problema non lo deve porre a me, perché il problema è già in qualche modo, in quello che Mosè ha dato, i dieci comandamenti. Se tu osservi i dieci comandamenti, i comandamenti, vedrai che questo ti darà la vita eterna. Quali sono questi comandamenti di cui parla Gesù? Non tutti e dieci. Difatti nell'elenco che fa Gesù mancano i primi tre, quelli che riguardano il rapporto con Dio. E invece si ferma Gesù soprattutto sui comandamenti che riguardano il rapporto con gli altri. Lui li elenca. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza. E poi Gesù aggiunge, anziché al nono, mette non frodare, perché era ricco. E quindi raccomanda a uno ricco che non deve frodare, cioè la sua ricchezza non deve essere il frutto di una frode, di un inganno, di uno sfruttamento. E poi alla fine onora il padre e la madre. Cioè, quindi i rapporti con la comunità, con gli altri, sono messi al primo posto. È quello che Gesù chiede. Allora il giovane dice, ma io queste cose le ho osservate. Le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù vede che c'è una disponibilità interiore. Lo fissò, dice il Vangelo, lo amò e gli disse, una sola cosa ti manca. Va, vendi quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. Ecco, una proposta. Cioè tu hai osservato i comandamenti, ma li hai osservati soltanto per metterti in regola. Quello di non fare male agli altri. Perché non fare male agli altri. Gesù gli propone qualcosa invece di positivo. Se vuoi realmente venire dietro a me, se vuoi diventare discepolo. Ecco, allora devi lasciare. Cioè non ti deve aggrappare alla ricchezza. Ma questa ricchezza deve diventare semplicemente qualcosa che tu impegni, ti impegni. Quindi passare da qualcosa che deve servire solo a te stessa a qualcosa che deve invece essere a servizio di tutti. Perciò il vendere ha questo significato. Non è semplicemente il fatto di dover vendere, ma il passare da un uso delle cose, di quello che noi abbiamo, uso solo a profitto nostro e invece di fidare oppure non interessarsi di quello che è invece l'impegno per la vita della comunità, degli altri. Cioè Gesù invece vuole proprio questo reale cambiamento da se stessi, da tutto quello che serve a me, in modo quasi egoistico, di chiusura, che diventi invece qualcosa che deve servire. A creare nuovi rapporti anche sociali, economici, in cui tutti possano accedere. E quindi allora che cos'è che di fatto impedisce una società nuova? Che cosa ci impedisce a cambiare? La ricchezza. Perché si fanno le guerre? Perché si fanno le sciarre? Perché ci sono lotte nelle famiglie? Per i beni, per i soldi, per accaparrarsi qualche cosa in più. Ecco, rispetto ad altri. Ed è proprio questo il punto. Perciò il giovane che aveva detto che cosa devo fare per la vita eterna, ha la risposta dei comandamenti, che era quella che avrebbe dovuto avere col Vecchio Testamento. Ma Gesù chiede qualcosa di più. Ecco, non una pura osservanza di non fare del male, ma che cosa fai per gli altri. Questo è quello che chiede Gesù. Che cosa ti impedisce di fare per gli altri qualcosa per gli altri, di metterti a servizio degli altri? Se vuoi essere mio discepolo, dice Gesù, allora mettiti a servizio degli altri. Perché nel momento stesso in cui tu decidi di fare qualcosa per gli altri, stai seguendo me. Seguire Gesù è la disponibilità ad entrare nella comunità. Perché solo così si può entrare in una comunità. Finché uno è chiuso in se stesso, attaccato alle proprie cose, non fa comunità. Nel momento in cui decide di condividere, allora può costruire una comunità. Ed è una società in cui mettiamo in comunione, in cui viviamo pacificamente, condividiamo. E questo è quello che Gesù chiede a uno che vuole essere il suo discepolo. A questo punto il giovane era troppo attaccato ai suoi beni, alle sue cose. E se ne va triste, dice il Vangelo. Gesù allora incontra i discepoli suoi e lui stesso dice quanto è difficilmente coloro che hanno ricchezza entreranno nel regno di Dio. C'è coloro che hanno ricchezze e queste ricchezze le usano solo, solo con una prospettiva esclusivamente egoistica, personale, individuale, senza un risvolto, senza un impegno sociale. I discepoli rimasero stupefatti a queste parole. E Gesù disse figlioli, si rivolge già a quelli che facevano comunione con lui, com'è difficile entrare nel regno di Dio. Qui non è solo dell'aldilà, la vita è eterna, ma entrare nel regno di Dio. Il regno di Dio, cioè entrare nella comunità. Cioè vivere questa esperienza di comunione nella comunità. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Quindi è un paradosso, certamente. Ma per dire quanto è difficile, se uno si aggrappa alle cose, al possesso, quanto è difficile. E chi mai si può salvare, dicevano i discepoli, ma Gesù guardandoli disse impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio, perché tutto è possibile presso Dio. Cioè questa liberazione dal possedere e questa dimensione del condividere è possibile, ecco, perché Dio stesso ci dà la forza di farlo. Allora Pietro disse a Gesù, ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Abbiamo lasciato tutto. Certo, non erano le ricchezze del giovane ricco, però è importante. Gesù rispose, in verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi a causa mia, a causa del Vangelo, che non riceva già il presente cento volte tanto, in case, fratelli, e sorelle, e madre, e figli, e campi insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita è eterna. Cioè, è questo quello che è. Cioè, chi si apre e allora ha una famiglia allargata, grande, una comunione di vita con gli altri, perché vive una fraternità che invece non c'è quando uno è chiuso nel proprio egoismo e vive. Quindi, ecco, il senso di una ricchezza che va condivisa. Il valore sociale della ricchezza, non privatistico. Non c'è un valore assoluto della ricchezza, come molti hanno teorizzato e teorizzano. La ricchezza è qualcosa di cui noi dobbiamo servirci, ma servirci per sì, per la nostra famiglia, per le nostre cose, ma deve essere una ricchezza che aiuti la società a vivere meglio, aiuti tutta l'umanità a vivere meglio. E questo purtroppo non c'è. Perciò uno degli ostacoli grandi ad accogliere il regno di Dio è proprio questo, aggrapparsi ai beni. Ma la ricchezza non ce la porteremo. Di fronte alla morte, quindi il problema che verrà dopo, dobbiamo porcelo. Se vogliamo entrare nella comunità dei figli di Dio, dobbiamo avere questo cuore grande, capace di impegnare tutte le nostre energie, le nostre forze, come un servizio che noi rendiamo, un atto di amore che rendiamo ai fratelli. E così costruiamo comunità. E la comunione con Dio diventa comunione con gli uomini e con le donne di questa nostra società in cui viviamo. E vi auguro una bellissima domenica. Sia lodato Gesù Cristo, pace e bene. Sia lodato Gesù Cristo, pace e bene.